Giornata clamorosa in Casal'Aquila, quella di ieri. Un vero e proprio ribaltone con l'addio del direttore sportivo Moreno Sacchetti, presentato solo qualche giorno prima. Una decisione che era nell'aria già delle prime ore della mattinata, quando il dirigente Expineto, che aveva lasciato la società Biancazzurra nel mese di ottobre, sembrava essere ad un passo da lasciare anche l'avventura in rosso-blu. Nel comunicato la società stessa parla esplicitamente di divergenze sulla conduzione del mercato e sull'applicazione delle linee guida societarie. Pare infatti che l'avvio della campagna di riparazione invernale avesse portato le prime ruggini. Nel weekend, dopo la risoluzione di Di Filippo Colpineto, l'eventuale approdo del difensore in rosso-blu, sembra sia stato uno degli ingredienti, ovviamente non l'unico, che ha portato alla rottura. Con Di Filippo che si accase in extremis al Campobasso, dove ritroverà Leonardo Nonni, e con l'Aquila che affida il ruolo lasciato vacante da Sacchetti a Simone Perotti, che già faceva parte del sodalizio come figura di raccordo tra prima squadra e settore giovanile. Perotti, peraltro, ha ricoperto il medesimo ruolo nella San Benedettese, contribuendo alla vittoria del campionato di Serie D nel 2016. Nelle stesse ore, finalmente l'arrivo del tanto agognato attaccante centrale, che va a colmare il buco lasciato da Galesio, tornato al Matese. Si tratta di Francesco Marcheggiani, classe 1991, che in carriera ha messo insieme tre reti in 61 presenze in Serie C, con Reggiana, Rieti, Vispesor e Lucchese, e 129 reti in 279 presenze in Serie D. Novità in Casachieti, dove arriva il croato Mario Verdoliak, 30enne ex Virtus Francavilla e Picerno, che in questa stagione era al Brera nel campionato macedone, e arriva come secondo rinforzo dopo Vincenzo Gatto nella zona nevralgica del campo. A lasciare, oltre a Spinelli, dovrebbe essere d'Ancora. Novità anche a Notaresco, perché oltre a Mattia Ruggero del Pineto, giovane attaccante esterno, che permetterà a Bruno di giocare anche eventualmente col tridente, in mezzo c'è Nicolò Francofonte, ex Gubbio, e che arriva dalla San Cataldese, Serie D Gironei. Da valutare? Il possibile addio di Barzanti tra i pali. Se dovesse concretizzarsi, la società Rosso Blu si getterebbe a caccia di un vicecurtosi. Grazie a tutti.